Ciao, con me oggi ho Ginevra e Carolina. Sei Carolina con? Carolina, sì. Abbiamo... Quando Panthers perciò che è uno dei ma... Signora Ginevra, si lascia. No, è per favore. One, pass. Perciò tutte le volte che ho usato delle salviette, tendevo poi a sciacquare prima possibile il siderino delle bambine. Rappiamo il marchio. Siamo state ben felici di poterle testare e vogliamo farlo proprio insieme a voi. E come abbiamo visto con l'utilizzo delle nostre paperelle, la pelle... Io, come abbiamo visto con le nostre... Adesso direi proprio che mi sento di consigliare le salviette Panthers. Io, dove- Laura! Grazie a tutti.